Sotto la straordinaria cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Papa Francesco ha partecipato al V Convegno Ecclesiale Nazionale sul tema in Gesù Cristo, il nuovo umanesimo, tenendo un discorso denso e programmatico. A tutti ha chiesto di non cercare di addomesticare la potenza del volto di Cristo, che ha versato il proprio sangue per la salvezza di tutti e non di pochi, di portare per le strade del mondo l'umanesimo cristiano, che non dovrebbe mai essere narcisista e autoreferenziale, di costruire piazze e ospedali da campo e non muri e frontiere tra gli uomini e le donne prostrati dalle fatiche della vita e dal peccato. Con indicazioni pratiche concrete il Pontefice ha ricordato che i Vescovi devono essere pastori, non predicatori di complesse dottrine, sostenuti dalla preghiera e dal proprio popolo, e che la Chiesa deve essere una mamma amorevole, lontana dalla tentazione del potere e del denaro, capace di dialogare e di offrire una carezza agli orfani del nostro tempo. I numerosi presenti in cattedrale sono stati messi in guardia da due tentazioni, quella pelagiana che spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata, e quella dell'ognosticismo che porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Tre invece sono i sentimenti che mettono in moto l'autentico umanesimo cristiano, umiltà, disinteresse, beatitudine. L'umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere, ha insistito Papa Bergoglio, afferma radicalmente la dignità di ogni persona come figlio di Dio, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l'allegria e l'umorismo anche nel mezzo di una vita molto dura. Infine un pensiero ai giovani che non devono cedere all'apatia o guardare dal balcone la vita, ma impegnarsi, immergersi nell'ampio dialogo sociale e politico edificando una società costruita su rapporti in cui l'amore di Dio è il fondamento.